siamo live, siamo liberi, siamo vivi, ci vorrebbe una conferma che se Twitch Studio è riuscito a catturare lo schermo, quindi vuoi fare tu la conferma? bastardo, chiaro vergenza del guerriero, eh ci sta uno gratuito della chiamata ci stanno queste cose da sbloccare allora abbiamo già un personaggio da sbloccare, abbiamo 198 e quindi praticamente facciamo una partita quanti euro è speso? oh io non pago, io non pago, io sblocco, ci sono fatti i soldi, le prove, sei un vero uomo ho massacrato qualcuno online, si ha la vergenza del guerriero a che cacchio sono le prime gradute, ti dà un vestito di bison, questo è a costo zero, gli altri pali allora possiamo prendere? certo che fu zero effetti, finché è zero, il risalto rimane uguale e vabbè, allora vediamo cosa succede saltati no, e poi facciamolo, facciamolo vedere, è il filmato sensazionale ah, una boccetta che è puro quindi e quindi e quindi anime di guerriero all'anima di guerriero ma vorrei dire diventa bigger 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 il 200% ah gli oggetti che usi nel sì, ma in base c'era con un vestito di bison ah sì, posso essere utile che poi devi raggiungere un certo punteggio io c'ho un sacco di oggetto per cacolo io c'ho un sacco di oggetto per cacolo altri servizi speciale season pass da stimolo no no, mancherà titoli, se soltanto potete vedere il contenuto disponibile ah guarda cosa più importante della fine personaggio, mi lascio tutte cazzate vabbè comunque non lo so, vogliamo fare un online vogliamo ci sconfiggere da qualcuno online o mi vuoi dimostrare qualcosa sì, però non insieme non rispondere subito allora intanto sblocchiamo guile sblocchiamo guile eh, sblocchiamo diretta questo guile il primo personaggio alternativo pagamento che sblocchiamo pagamento paga paga senza pagare abbiamo fatto il campaign ecco guide più il consumo è incluso questo acquista con fight money fight money noi acquisteremo solo con fight money quindi abbiamo guide e ci abbiamo già quasi mancano pochi poche centinaia per poi prenderemo possiamo abbiamo anche la solità di mostrare il modello 3d wow però guile guile dai con la cavatta gialla non si può vedere ok vabbè dopo che abbiamo visto questo possiamo fare un versus e si poi facilmente possiamo sbloccare un'altra no no va bene mi contento di questo e devi cambiare i comandi ma si voglio usare cosi e invece metto il meglio caccia forse il presa il skill si dovrebbe essere si 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 segno si si i b skill manualmente ma si si fa manualmente i b skill che basta per i due tasti soprattutto con questi già i valori perché il v3 che non pare con due tasti ma quello lo fai una volta e basta una volta che devi uscire insieme con il personaggio e finalmente ma mica visto full hd lo stico è un pochino è messo a alta risoluzione è un pochino e allora se mi sa che è benissimo e allora è banale questo è ancora una delle lastche da avere di una 650 o una 1060 devi fare le cose in realtà ho trovato devi mettere la risoluzione bassa che ti metti in testa vabbè con questo stage qua possiamo pallaggiare ancora da due che non mi è mai finito questa è una pizze di gai eh non lo vio eri abituato ah che non lo vio eri abituato ah non lo vio eri abituato che non lo vio eri abituato che bella sensazione mamma mia che guile è tornato l'imbattibile guile io mi raccomando e oh oh è è è è è è Mamma mia, questo Guile Mamma mia, questo Bison Guile vince Sì O magari poi finisce dove dobbiamo comprare Magari se ne cadono Capri Non è capito Non puoi stare né davanti né sul lato Capri 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 Non può farlo Capri Testi Eh? Cazzo? Eh, mi hanno stupito la canzone Guarda, si vede la giusta di un altro Mamma mia, ma che super guile Che super guile Un attimo le mosse di... Propone qua cosa di interessante Sì, il bison non è male Il bison non è male Comunque con l'altro... Il bitriger o il... Sì, ma non schifo i fatti del bitriger No, ti fa la mossa del... Quello che dici che non lo fa Il caccia delle una, che fai? No dai, il psycho cazzo Psycho cazzo Psycho judgment Psycho judgment Ah, durante il salto Pugno a media, che bello Ah, il pugno a media fa ancora altre cose Col pugno forte Pugno a media e pugno forte Quella cazzo Come in sapere Come in ATWIO Un' Oh Sì 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 Troppo facile Extreme Guile Non penso che la proletta Sì 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 Niente, è incredibile cari Eh sì, non l'aspettavo Eh, Barso che chiede aiuto Bambino che, non l'aspettavo Quanto è iniziato? Quanto è iniziato? Quanto è iniziato? Quanto è iniziato? Non si può fare il calcio presto senza neanche toccare tetra Oh no... E non c'è sci-fi Sto ancora provando Nemo Quindi adesso giocherai Ci devi mettere un po' di beta, sennò non ti dai soddisfazione Questa è assa Questa è assa E' assa E' assa Questa è assa Questa è assa Ok, 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 ok. Molto è fanzia, perché te la lancia pure l'ago, lo sai? Possiamo fare una versione particolare che non fa. E magari lo sapeva, lo sapeva, lo sapeva. Non è un po' che perdita Non è un po' che perdita Non è un po' che perdita C'è qualcosa che non tolto eh eh? O dimmi qualcosa Eh, qui si fa qua Ma è questa mamma? E' una semplice vendere l'aria Stavo solo aspettando un momento Buonissima il... come si chiama? No, l'altra Quell'altra che è con L2, come si chiama? V? V-mode? V-mode Eh, V-mode Come si chiama, eh? V-mode 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 E' luminato Sonic Cross Va per passare, ho il momento di... di picchiarti adesso V-sister 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 V-skill V-sister cosa ne pensi questo gioco eh? Quanto all'ora è... all'ora è putin utile V- frost RP N- Ah, non c'è più il giusto, non c'è più il giusto. Comunque va già, va già, va già, non è lupi Ok, il primo è un po' di più, va Se non ho quando il X, posso fare la scuola Sì, va già 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 no Mamma mia, che super guy, perfetto, perfetto con guy, ed è tutto pubblicato, e adesso è tutto vero, è vero, hanno dotto la mossa fondamentale di Bison, e anche quella di guy, fondamentale, cosa pensi questa mossa fondamentale? Anche? Hanno nominato a bagno. Ancora? Anche se hai da scopo un pochino. Si, l'ho fatto. Si, dai, dai, non fai niente se hai da scopo. Mi fai arrabando ini, non fai niente se hai, non fai niente se hai da scopo. A mezza da band. un po' di nuovo Ehi, non funziona. Ehi, non funziona. Ehi, non funziona. Ehi, non funziona. Certo! No! Che fa? Doveva fare il cacciaf mark... Non lo fa la più cacciaf mark. Eh, adesso a bite se è totta e è bene così. Eh, adesso ho finito. Dopo 12.000 battaglie si uscirà a vincere. Ho capito! io volevo capire se è veramente in questo vuole capito perché non so ci c'è sempre con gai a scappare anche altri personaggi cominci a pensare il prossimo da sbloccare chi vuoi sbloccare a cuba chi vuoi sbloccare? storia chi? stile pubblicitare, tutta, facciamo stile pubblicitare non so di fare risponsare al momento, ho di sapere di tanti, in realtà abbastanza il secondo risultato, quindi non puoi stare in pubblicità no, vorrei fare un po' di pubblicità ora, cominciamo e dopo un po' di altro ehm, no forse? cambiamo forse ehm, 21 e 15 o 20 inizio stasci round 1 fight ehm ehm abbas ehm 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 Ah, non c'è questo. Mamma mia! Mammamia! Ma che cosa che volevo fare? Sì, sì! 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 Also il dovrevente, v Josel in un senso. Ora ho bisogno! Sì 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 bravo quindi fai un ruolo fai su fai su Cosa? E allora è l'ultimo? Vai! Via, 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 via! Via, conosco il rune di pure, da' che è, che è il Masters! Sono il tuo maestro! Guarda, sta proprio dominando, non ho niente male, ma i miei sono più potenti, non sta neanche pure, viauro. «Round one不了» ok E' un pochino, ma scena di fight to play. Mamma mia. Ancora? Uh! Aaaaah! Alla esistere la sua! Ci sai la parte della vigilia! Sei che cunti, sì! Nooo! 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 Mannaggia Listo Anche io sbaglio Certo Ma ho già saputo dove avresti Dove saresti capito No! No! L'ha fatto un po' in ritardo No, non l'ha fatta roba No! 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 E ancora No! 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 Sì Oh 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 Nooo! Ah, ce l'ha pure della vostra attaccata! Eh, ha molto perso. Ma che? Non mi veniva là. Vabbè, la sono giocata malissima. Eh vabbè, ogni tanto anche Ken può perdere. Eh, sì, ma che devo perdere. Eh no, eh. Devi te un paio in tutto. Ti ho detto? Sì. Ora togli. Vabbè. Mi è stato un piacere. Ah, più tardi per la notte horror. Eh? Che notte horror. Perché? Salute a tutti! Ciao! 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 Ciao!